Oggi voglio vado a fare il mio dolce preferito, la pastiera napoletana e nella fattispecie oggi voglio la faccio talmente facile questa ricetta per voi che voi neanche vi immaginate. Seguitela passo dopo passo e vi verrà proprio bellissima, a fine romana, pastiera napoletana. Primo passaggio, allora io mi sono preso una ciotola, fatele pure voi così sporcati in me. Allora, io me ne faccio un po' di più di questa pasta frolle, ma questa qua è quella che non si spacca mai. Fate la farina a fontana stessa in questa ciotola, guardate qui, io me faccio un chilo di farina, poi ci metto mezzo chilo di burro e mezzo chilo di zucchero, senza toccare la farina, lavorate solo per prima, burro e zucchero. Guarda qua, senza toccare la farina, burro e zucchero l'abbiamo amalgamato bene, ora, quattro uova sbattute, le mettiamo dentro e impassiamo per bene e piano piano ci tiriamo la farina all'interno. Facciamo questo impasto bello, compatto, omogeneo e va sicuro che non si spacca neanche sulle sbattite dentro. Quando si è compattato un po', va giù, io me lo passo solo un po' sul bancone, io adesso lo vado a lavorare, ma attenzione, non molto, perché la pasta frolla non si deve lavorare molto, lo vado semplicemente a compattare un poco e poi vi faccio vedere che facciamo. Ok, adesso, carta pellicola, tanto bello, mettetelo nel frigorifero a riposare per almeno un'ora, ok? Mo, ci andiamo a preparare il ripieno della pastiera. Ambrè, ambrè, sì, vi faccio, fa facile il ricetto. Mo, occupiamoci del ripieno, voglio, però, un applauso come sono arrivato da Napoli, mille fiori e fiori d'arancio, mamma mia, vai giù, semplicissimo, ricotta, che l'ho setacciata per bene, perché si deve prima setacciare, che faccio ricotta e zucchero messo insieme, uguale quantità, quindi che è mezzo chilo di ricotta, mezzo chilo di zucchero. Fatto ciò, ci andiamo a mettere, guardate mamma mia, aroma alla vaniglia, che ci vuole un poco poco poco. Poi ci andiamo a mettere, guardate mamma mia, mille fiori, vedete? Mille fiori, io ci vado a mettere pochissimo, perché già questo è abbastanza forte. Fior d'arancio, ce ne posso mettere un cucchiaio invece un pochettino più grande, e ce lo metto dentro, quindi mezzo mille fiori, un cucchiaio intero, fior d'arancio, buscia d'arancia, tanto bello, e mischiamo adesso gli odori. Mamma mia, che odore, sta tornando la nonna indietro. Grano cotto, voglio qua, dovevo spendere giusto 10 secondi per fare veloce. Il grano è già cotto, quindi non lo dovete cuocere nel latte un'ora e mezzo, è già cotto. Quindi mettetelo dentro, se non vi piace poi così intero, lo potete anche un po' fullare, però a me mi piace così. Ah, e tra l'altro, voglio dire, nella ricetta originale ci vanno pure i canditi, ma a me non mi piace. Ah, mi chiamo che si così, ma come sta? E che bellezza, adesso uova sbattute, ce le mettiamo dentro, ma a poco alla volta, vai giù. Abbiate un po' di pazienza, tanto è quasi finito, quasi finito. A poco alla volta le uova. Ecco qua, questo è perfetto. Ma vai giù, che volevo dire, una cosa importante, voi questo qui lo potete preparare pure il giorno prima, ok? Ma adesso che facciamo? Finito questo, adesso andiamoci a occupare della pasta frolla, che ce la siamo naturalmente cacciati un po' prima, che dovete fare anche voi, che se no non si può lavorare. Facciamo la forma, ma ti marroba e inforniamo. Ok, adesso la crema è pronta. Ci siamo imburrati e infarinati una piccola teglia. Ma con tutta la calma possibile andiamo a stendere, ma non è che dobbiamo andare a schiacciare. Dovete andare con tutta la calma possibile, andate a stendere e poi dopo lo andiamo a mettere nella forma. Questo spessore qua va bene, vedete che non è troppo grande, non è troppo piccolo. Allora, ma che cosa facciamo? Il mio picchio me lo vado a passare con tutta la calma possibile, sopra un mattarello, tanto bello. Eccoci qua. Boh, ce la passiamo qui, tanto bello. E adesso ci andiamo a mettere nella forma, vedete? Adesso con tutta la calma abbiamo andato a fare la forma dentro. E poi dopo vi faccio vedere come facciamo, che togliamo tutte le parti che insomma sono in più. Così poi dopo facciamo le strisce sopra, che devono essere sette. Quando l'avete livellata, proprio al punto giusto, vedete? Che è tutto così. Prendete il coltellino, vedete dove sta, che non è preciso. Prendete, ce lo passate sopra e ci togliete i pezzettini in eccesso. Vedete? Quello che cade dentro naturalmente lo togliete. Questo qua, poi dopo non si butta né questi pezzetti, si mischiano un'altra volta e facciamo le striscioline sopra. Prima di andare a mettere la crema dentro, munitevi di forchetta, voglio, e andate a bucarellare sotto. Ok? Questo è un passaggio molto molto importante, non vuoi scordare. Boh, è arrivato il momento di andare a riempire la nostra pastiera. Naturalmente, voglio, non uscite fuori dal bordo. Ma vi faccio vedere fino a che livello dovete arrivare. Ecco qua, vedete, voglio, io ho lasciato naturalmente questo spazio qui. Adesso fate così, date qualche colpetto. Adesso io me lo metto un attimino di lato. Perché adesso andiamoci a fare le striscioline dello stesso diametro che abbiamo fatto. La pastiera, la chiudiamo e la inforniamo. E ora vi fate le striscioline, tanto bello. E ora voglio, qua, fate tanto bello la composizione. Aspetta, facetemi un po' di farina. Oh, perché? Tanto bello la composizione. E una, tanto bello. E due. Una grande pazienza e tanto amore, soprattutto. Sono tre. Ora ci mettiamo là la quarta. E concludiamo con altre tre. Le altre tre striscioline invece vanno così. Guardate, lo faccio vedere. E uno. Molto bello. E due. Fate attaccare bene anche di lato, naturalmente. E so tre. E abbiamo fatto proprio questo. Fatto ciò, il forno però lo dovete accendere prima. Ok? Perché si deve preriscaldare a 180, massimo 190 gradi. Deve essere forno ventilato. Mi raccomando, non vuoi scordare. E la lasciamo per 50-55 minuti. Occhio sempre, andate a controllare. Perché se si brucia, poi è brutto. Però, mo' si sentirà nella casa vostra l'odore proprio dell'acqua. E la Pasqua napoletana. Ed eccola qua, voglio. Sono passati un po' di più, eh. Di 50-55 minuti. Ho fatto un'ora e cinque. Quindi ho messo dieci minuti in più. Perché volevo farla fare bella colorata. E come si deve. Adesso, voglio. La facciamo raffreddare un po'. La metto sul piatto. E posso augurarvi una buona Pasqua. Voglio perché questa è la fenomeno. Sta passiere come ve l'ho fatta vedere oggi. O veramente più facile di questo. Non si può. Spornata. Tanto bella. Messa nel piatto. E adesso voglio. Mi dispiace doverla tagliare. Ma la dobbiamo tagliare. Perché questa è la pendere al muro. Allora, vai. Andiamo al taglio. Andiamo a vedere. E che fragranza. Mamma, mamma. Mamma, mamma. Ma mangio in mano. Ma mangio in mano. Questo modo. Quale chi viene e sarà bene a mangiare. Sicuramente mi manda a benedizione. Pastiera napoletana. La ricetta più semplice che abbiate mai visto. Eccola qua. A filo del mondo. Ciao a io.